Il Premium Split Contract combina una licenza e un contratto. In questa guida ti mostreremo come acquistare il Premium Split Contract. Vai su https2.com. Nell'angolo in alto a destra clicca su Sign In ed effettua l'accesso. Per impostazione predefinita si aprirà la Dashboard Goal Split. Clicca sull'interruttore della Dashboard nell'angolo in alto a destra dello schermo e seleziona Premium Split. Si aprirà la Dashboard di Premium Split. Scorrendo la pagina verso il basso vedrai l'elenco dei pacchetti disponibili per l'acquisto. Seleziona il pacchetto che fa per te e clicca sul pulsante Purchase, Acquista. Si aprirà una finestra in cui ti verrà chiesto di selezionare il metodo di pagamento. Il pagamento è possibile solo con Ultima. Una volta selezionato il token Ultima, conferma di accettare i termini e le condizioni selezionando la casella e clicca sul pulsante Purchase, Acquista. Nella finestra che si aprirà saranno indicati l'importo in Ultima e l'indirizzo del portafoglio a cui trasferire l'importo specificato. L'indirizzo sarà disponibile anche sotto forma di codice QR per effettuare la transazione dall'applicazione mobile. Per effettuare il pagamento invia l'importo richiesto al portafoglio specificato. Invia l'importo esatto che visualizzi sullo schermo. Attendi la notifica di pagamento. Fatto! Hai acquistato con successo il Premium Split Contract. Ora vai alla pagina My Contracts. Lì vedrai il contratto acquistato. Qui puoi anche scaricare la fattura con le informazioni sul pagamento cliccando sul numero d'ordine. Tieni inoltre presente che i valori Total Limit e Use Limit sul widget Premium Split License Usage cambieranno nella dashboard dopo l'acquisto. Per qualsiasi domanda a contatto al nostro servizio di assistenza saremo lieti di aiutarti. Ti auguriamo un buon lavoro! Per qualsiasi domanda a contatto al nostro servizio di assistenza,